Rimettere al centro la persona, fare tesoro delle esperienze e andare avanti senza fermarsi all'apparenza nonostante mille difficoltà. Tre storie da ascoltare tutte d'un fiato, tre giovani e la loro voglia di centrare gli obiettivi prefissi, nonostante la vita abbia presentato subito il conto senza però farli abbattere. Il comune di Larino, ospitato a Riannaltieri, Pompio Barbieri e Antonello Pizzi, denominatore La Carozella con la quale convivono ormai da anni. Un momento per fermarsi e riflettere sulle problematiche della disabilità. Un dibattito moderato da Antonio Vesce e Graziella Vizzarri, rispettivamente presidente e vicepresidente del Consiglio Comunale. Sviscerate leggi normative e problematiche di tutti i giorni. Tra gli ospiti Tina De Michele, presidente per la consulta per le disabilità del comune di Termoli, la psicologa Monica Gammieri e Flora Piacquadio, docente di filosofia. E poi loro iniziando da Riannaltieri, che fin da piccola ha dovuto convivere con la sua malattia. Poi l'incontro con Gesù e la svolta con la voglia di aprire un nuovo capitolo attraverso la fede e l'università. Sto facendo un percorso universitario per prepararmi proprio a questo, i centri della comunicazione, per mettere a servizio del prossimo le mie conoscenze e il mio essere persona, anche se con qualche difficoltà. però credo che ognuno di noi ha qualcosa da dare, proprio perché è unico e irripetibile. Quindi amate sempre e non perdete mai la speranza. Pompeo Barbieri che solitamente viene ricordato in quanto scampò al crollo della scuola Francesco giovene di San Giuliano di Puglia il 31 ottobre del 2002. Con la sedia a rotelle ci convive ormai dall'età di otto anni. Nessuno neanche a scuola gliel'ha mai fatto pesare e lui ha subito dimostrato che la vita offre sempre nuove opportunità. Nel recente passato è diventato campione italiano di nuoto e si è anche laureato. Spero innanzitutto di raggiungere tutti gli obiettivi che mi sono prefissato nella mia vita. Uno che era quello di laurearmi l'ho raggiunto, adesso continuerò con la specialistica e poi spero di trovare un lavoro che mi soddisfi e ovviamente ricalchi in pieno i miei studi. Sono già diventato campione italiano di nuoto, spero di continuare in questo percorso e di arrivare sempre più in alto. Antonello Pizzi è quell'incidente stradale avvenuto qualche anno fa in sella all'amata bicicletta di cui è anche molto appassionato. Un episodio che non gli ha cambiato la vita, anzi invece delle gambe userò le mani, ha detto in quanto è sua intenzione continuare con lo sport e specializzarsi nell'handbike. Spero di diventare campione di handbike, siccome è stata sempre la mia persona andare in bicicletta, ora sto continuando e spero di arrivare a livelli alti e fare questa di vita. Sto insieme a persone speciali, stupende.